Ritornano anche quest'anno le giornate matteane, la due giorni promossa dall'Arcidiocesi di Salerno Campagna e Acerno con il patrocinio del Comune di Salerno per prepararsi al meglio alla festa del Santo Patrono ed Evangelista Matteo. Tema di quest'anno è il Vangelo delle Beatitudini, La via per la felicità e si svolgerà nelle serate del 17 e del 18 settembre presso la Chiesa Cattedrale di Salerno a partire dalle ore 19. In occasione del primo incontro venerdì 17 il professor Paolo Mascilongo, docente di Nuovo Testamento presso l'Istituto Teologico di Piacenza, terrà un alexio dal titolo Il Manifesto del Cristianesimo. A seguire il professor Nicola Rotundo, docente di Teologia Morale presso la sezione San Tommaso della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, terrà un alexio dal titolo L'Etica delle Beatitudini nella vita del credente del terzo millennio. Sabato 18 con inizio sempre alle ore 19 sarà la volta del professor Antonio Landi, docente di Nuovo Testamento presso la Pontificia Università Lateranense, che terrà un alexio dal titolo Una nuova legge o una legge rinnovata, Gesù e la Torà, Matteo 5, 21, 48. A seguire il professor Aldo Scoda, docente di Teologia Pastorale alla Pontificia Università Urbaniana, terrà un alexio dal titolo Vivere le Beatitudini, annuncio, catechesi e comunità. Gli incontri saranno presieduti dall'Arcivescovo, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, mentre a moderare entrambe le serate sarà la professoressa Lorella Parente, docente di Teologia Dogmatica presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno e responsabile dell'Ufficio Cultura e Arte dell'Arcediocesi di Salerno, Campagna e Acerno. Tra i partner delle giornate matteane, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno, l'Associazione Biblica Italiana, il Festival della Teologia Incontri, il Festival della Vita e le edizioni San Lorenzo.